Ci sono delle regole per riuscire a sopravvivere in quei film. Credetemi, io lo so. Altrimenti tornano. Il movente dell'assassinio è sempre collegato a qualcosa del passato. Però questa volta sembra qualcosa di diverso. Affrontiamo la cosa. Insieme. Mamma! Leave Sydney. L'ho già visto questo film. Non questo, Sydney. Hai detto che avremmo chiuso questa storia. Va a finirla, Sydney. Forno subito. Beh, è spacciato. Al cinema.